E' un fiume in piena il presidente Marco Marsiglio che anche questa mattina a margine di una conferenza stampa tenutasi presso l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara è tornato a rivendicare e chiedere per l'Abruzzo, regione bagnata dal mare, una autorità portuale autonoma. Non è mancata poi la risposta a chi sui social ha ironizzato su un suo lapsus ieri nel corso del discorso tenuto in consiglio regionale all'Aquila. L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari anzi anche sui tre mari compreso lo Ionio. Solo un cretino in malafede può non aver capito che cosa stavo dicendo. E' chiaro che neanche un imbecille può pensare di attribuirmi una dichiarazione del genere che se avessi fatto in quel momento sarebbe entrata la neuro a portarmi via. Non è accaduto perché tutti quelli che erano presenti in aula hanno ben compreso e lo comprendono gli abruzzesi che ho sollevato un tema vero e cioè che l'Abruzzo è l'unica delle regioni italiane che si affacciano sull'Adriatico, sul Tirreno o sullo Ionio a non avere una propria autorità di sistema portuale. E quindi questo dibattito umiliante se dobbiamo prendere ordini da Ancona o da Civitavecchia è un dibattito che a me non appassiona. Ho anche dimostrato che questa pretesa di andare a Civitavecchia avrebbe danneggiato l'Abruzzo perché André sarebbe andato sotto un'autorità portuale che ha grossi problemi finanziari di bilancio e quindi non avrebbe avuto soldi da investire sui porti abruzzesi, avrebbe interrotto la pianificazione del piano regolatore di sistema portuale facendo ritardare di qualche altro anno l'adozione di uno strumento indispensabile per la vita dei nostri porti, avrebbe soprattutto impedito all'Abruzzo di vedersi autorizzare la ZES che è invece un volano fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ora se di fronte a questi argomenti seri qualcuno vuole divertirsi a fare la burla lo posso accettare dai buontemponi che passano la giornata su Facebook ma che consiglieri regionali o parlamentari che stanno a Roma in vacanza a 15.000 euro al mese dicano queste stupidaggine, mi offendano pensando che io sia così ignorante e zotico da non conoscere quali mari bagnano le nostre terre mi fa veramente pensare sullo stato basso del livello politico di certi soggetti e di certi partiti che esprimono questa rappresentanza. Grazie. Grazie.